www.manenzopoli.it la notizia di ieri primo novembre che la bce ha dato via al programma di digitalizzazione dell'euro entro il 2026 ci sarà la possibilità per i cittadini europei di avere l'euro digitale si capirà che tecnologia verrà usata da qui al 2026 nel sottostante per poter utilizzare questo euro digitale si sa già che ci sarà un portafoglio sul proprio telefonino sul proprio pc ma questo portafoglio questo wallet come dicono quelli bravi sarà per fino a 3.000 euro per partenza affiancherà la moneta cartacea e sarà molto flessibile per effettuare trasferimenti di denaro in maniera molto semplice l'altra funzione molto interessante sarà la programmabilità ad esempio se ho dovuto un bonus direttamente sul mio cellulare o sul mio device quindi quella qui al 2026 avremo l'euro digitale vi riporto un articolo è una buona lettura è una buona lettura Grazie.